e che c'è qua bello a tutti dal vostro gabbo man siamo tornati su pes 2016 perché ovviamente voglio provare un nuovo spacchettamento 50.000 gp li ho accumulati vorrei pescare qualche leggendoza perché se non le pesco adesso non le pesco più ce voglio provare soprattutto perché la percentuale dei pallone nero è abbastanza decente 48 e 4 quindi praticamente è un lancio di monetina testa o croce per beccar pallone nero diamo un'occhiata ancora una volta all'elenco bersagli eccoci qua li ordino per valutazione generale come vi ripeto vorrei trovare baggio ma vorrei trovare anche un oliver can ovviamente non mi dispiacerebbe manco un bail un ribery un lewandowski soprattutto che lo scorso anno mi ha fatto una differenza di quelle incredibili non so quanti di voi si ricordano l'anno scorso in pes 2015 che gol che me fece il mitico lewandowski e poi vabbè ci stanno tanti altri bei giocatori c'è arturino vital ci abbiamo pure che ne so ignesta benzema benadia pure che non fa schifo vabbè quindi abbiamo capito voglio spacchettà de conseguenza the five legends più babbangita se parte dalla prima pescata del giorno visto che l'ultima volta non mi è andata per niente bene io spero che oggi come minimo becco due palloni neri non dico tanto ecco il primo però naturalmente è oro de conseguenza vediamo chi cazzo è questo stoppa de petto me guarda in faccia questo è sandro del barcellona ne avevo mai pescato 20 anni solo 75 però ragazzi guardate l'esacolo c'ha praticamente tutto tranne che i passaggi ma appena attaccante sinceramente il passaggio non è che serve a tutto sto granché 84 82 79 riserva de lusso direi di aggiunge immediatamente ai membri mai club perché so curioso de pesca ancora quindi 55 49 5 addirittura il pallone nero sta diventa di più de percentuale quindi spero de beccan top player date me baggio per favore lo metto là davanti con cristiano ronaldo faccio faville questo però perlomeno è pallone nero daje questo potrebbe essere robbie baggio robbie baggio non è però comunque qualcosetta fa se a pecorella cammina corre me sembra irnanes porca puttana la konami continua ad appioppam giocatori della juve questo però perlomeno è un 85 de valutazione generale brasiliano trentenne 1 80 classico numero 10 ma soprattutto c'ha delle statistiche veramente ottime c'ha dribbling c'ha passaggio c'ha tiro pure un'ottima velocità eppure il fisico non è niente male non è de certo un soffiatore de minestrine quindi un bello 85 go controllo palla 87 potenza de tiro pure 86 a effetto 85 a passaggio raso terra fa le finte de doppio cazzo tira da lontano c'ha il rimbalzo interno io non ho capito che cazzo significa rimbalzo interno vabbè comunque sia un 85 l'abbiamo pescato si aggiunge ai membri my club ancora una volta terza pescata del giorno 53 contro 49 7 e il gabbone c'è riprova non lo so per quale motivo ma so sicuro che muo mesce oro quindi schiaccio su un nero le palle come sempre girano io te pre te prego è nero sitti tutti che questo è roberto baggio me lo sento c'ha lo c'aveva il calzino abbassato però questo è dibbala mi è ricapitato un'altra volta ragazzi l'avevo mandato via per far spazio perché comunque sia la juve era uscita dalla champions però questo è un ottimo giocatore argentino sempre della juve becco solo quelli 22 anni 1 e 77 guardate il dribbling guardate la velocità passaggio pure tiro e fisico diciamo un pochetto di meno però ragazzi questo è veramente forte l'ho provato e posso assicurare che se vi capita non è secondo a nessuno di conseguenza lo rimando avanti potenza di rompente 90 mi sa che l'hanno migliorato parecchio dall'ultima volta che l'ho preso controllo palla 86 stessa cosa dribbling comunque un'ottima finalizzazione perché 82 su 99 è veramente tanto e parecchie abilità dei giocatori lo aggiungo velocemente ai membri my club e vado con la quarta pescata del giorno 49 4 contro 56 se ripaga ancora una volta con gp riconfermo comunque sia oggi perlomeno due palloni neri su tre fino adesso non è male dammene un altro eccolo vabbè ero stato troppo yellato l'altra volta questo fa le corsette questo fa gli zompetti questo non fa un cazzo di niente è capitato che cozzalone un'altra volta oh questo pesco dappettutto lo trovo su fifa lo trovo su pes me lo ritrovo dentro casa mi esce dalla tazza quando vado a cagà vabbè comunque sia 33 anni 1 88 non è male per carità 90 88 85 84 con marcatore se scoppierella pure lui veronica de capoccia e de collo bene aggiungiamo anche alex ai membri my club e mo ci facciamo l'ultima pescata per oggi le percentuali comunque sono rimaste abbastanza elevate dei pallone nero ancora 48 e 4 e comunque vabbè ho pescato tre palloni neri finora quindi non è male altro pallone nero 4 su 5 oggi oh dai e damme qualche questa è babbangita questa è babbanfica no cazzo ero così freddi mannaggia a me quando ho mandato via i giocatori del barcellona l'altro giorno porca miseria sinceramente però non mi aspettavo che in questo agente ci sarebbero stati i giocatori del barça perché se no non li mannavo via e comunque vabbè adriano è un ottimo terzino sinistro all'occorrenza fa pure il destro 87 80 80 79 ah regà se volete un nuovo pack opening mi raccomando mettete un bel mi piace commentate fatemi sapere voi che avete pescato con sto agente perché io so sempre curioso voglio sapere se sculate come il gabbone o meno condividete iscrivetevi al canale non mi resta che dava appuntamento alla prossima sempre con un nuovo video di pes 2016 e il gabbone vi saluta bella a tutti regà ciao